non riesco a smettere un attimo di pensare a mio figlio Filomena penso sempre che se Ida è riuscita a ricevare suo marito e a tornare dai suoi bambini c'è almeno una speranza che le cose vadano bene anche per me e che ricevi il mio Renzo un giornollaccio per me è lo stesso non ho pensato ad altro da quando ho visto l'ora 2 ma mi domando noi ce la faremo a Ciavararrenzo riusciremo mai ad arrivare col figlio è talmente lontano e noi due siamo due povere donne sole Rosalia e Ida ha avuto fiducia ed è stata pregnata e si è vero allora promettimi solo una cosa dimmi che in ogni momento penserai che noi due ci riusciremo non dobbiamo avere dubbi sì d'accordo sì 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 sì